Beni, vidi, ucci. Ormai si potrebbe rileggere così l'antico adagio, seconda gara stagionale del campionato italiano terra e seconda vittoria di Paolo Andreucci che affiancato alle note da Rudy Briani cala il bis sugli inediti sterrati marchigiani, il poche rove si considerino le volte a punto 4 che è scritto il suo nome nell'albodoro della corsa. Adriatico tutt'altro che semplice però per il pilota Garfagnino che nelle fasi iniziali ha dovuto rintuzzare l'attacco di un pimpante costenaro. A distanza di qualche giorno il 12 volte campione italiano rally analizza e sviscera così la situazione. La gara è andata molto bene perché siamo riusciti a cambiare ritmo dopo il primo passaggio perché abbiamo trovato tanta ghiaglia, come al solito il numero uno è un po' penalizzante, però siamo riusciti dopo a cambiare ritmo e andare bene, la macchina è andata bene, il team ha anche le gomme, il problema erano gli avversari che migliorano sempre, infatti Oldratti ha fatto una bellissima gara, ma anche Costenaro e soprattutto Dati ha fatto un cambio di passo, tutti hanno fatto un cambio di passo, per cui è stata difficile, per noi è stata una bella soddisfazione anche per i nostri sponsor locali VM e Tomei che mi avevano detto che un'altra vittoria era nelle loro aspettative, io ero un po' meno convinto perché era una gara nuova per cui non si sapeva cosa ci potesse aspettare con le gomme e invece sono andati molto bene, bene la gara, bene il team, per cui siamo a punteggio pieno per ora. Così parlò Lucci Nazionale che adesso può preparare con calma e scrupolo come sempre, come da sempre, il prossimo impegno ai primi di luglio che si chiama Rally di San Marino, tra l'altro sarà un appuntamento speciale visto che da quelle parti si celebrerà la cinquantesima edizione, un traguardo prestigioso e significativo. A lanciare la sfida da Andreucci e alla sua indiscussa leadership potrebbe tornare anche il rampante figlio d'arte Battistolli, siamo però convinti che conoscendo la proverbiale e atavica fame di successi, nulla vorrà concedere ai suoi rivali, regalandosi un'altra perla all'ombra del monte Titano.